Buongiorno a tutti, oggi vorrei presentarvi Self CP710, da loro stampante di colorifica di camera o subrogazione. L'estampante di facile utilizzo, in grado di riprodurre volutamente stampi di altima qualità, con una risoluzione di 300-300 di pieghe. Self CP710 stampa direttamente dalla fotocamera, dalla videocamera e dalle studi di maniera, oltre che naturalmente dal PC. Nostra strada, la strada l'OSB, l'intercomato, verrà stampante stessa e collegare il dispositivo desiderato a risolvere la fotocamera. L'ottario del lavoro, scuola dell'ospedale, si si rivolgerà del sole e sarà sempre pronto per gli utilizzi. Nel PC, il CP710 di Canon, è dotato ad uno slot intero di memori card posizionato in una parte frontale, in grado di leggere le piccole monistiche di memoria, come CompaXS, Secure Digital, Memoristick e Multivide Card. Dopo aver inserito il supporto minimale, le immagini vengono visualizzate sul primo lo schermo all'OCD a colore, da 1,5 pollici. Grazie a divinione semplice ed intuitivo per tutte le informazioni di stampa, come la scelta delle auto, il formato, il numero di stampa e la presenza del numero della base sullo stampa, possono essere gestite aggiormente direttamente dallo schermo della self CP710. questo stampante fotografica, compatto, è dotato ad impotenti letture di stampa ed un meccanismo di trasporto, cartilapido, che consentono di stampare foto senza bordi, informati con linee, in modo di 60 secondi. Self CP710, oltre a tutti questo, offre anche protezione per il tuo foto. Il registriamento proiettivo lucido viene infatti posizionato sullo uso che esige al termine della stampa. Grazie a questo sistema, Canon garantisce una relata della stampa fino al centaglio. di stampa. Quindi, la stampante fotografica ideale, Canon, Self CP710. Simona Mandaratti, specialist di Canon, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Sost errata? I dicono del terroito? Grazie.